Mister, è nuovamente tempo di derby, c'è questo derbissimo veronese con la FIMAuto, 1-1 nel match di andata, poi Verona che vinse a dicembre il derby in Coppa Italia, ora c'è nuovamente questo scontro. Sì, è uno scontro appassionante anche perché le squadre vengono da due buone vittorie, loro ad Empoli e noi in casa con Ravenna, oltretutto ci separa un punto in classifica, noi dovremo cercare di vincere per superarle, non sarà semplice però ci proveremo. È un Verona carico dopo queste due vittorie consecutive? Sono state due vittorie importanti, a Firenze non è facile per nessuno vincere, abbiamo vinto largamente anche in casa con Ravenna, siamo in un buon momento, è tutta un'altra squadra rispetto all'andata e alla partita di Coppa e speriamo di poter continuare a far bene. Situazioni infortuni, qualche ragazza che ha effettuato allenamenti differenziati in settimana, però non sembrerebbe nulla di grave. Ma direi che a questo ormai noi ci siamo abituati, non è un problema, adesso abbiamo una buona rosa per cui se ci sarà qualche assenza, sicuramente chi dovrà superire saprà fare molto bene la sua parte. Intervista prima del derby, siamo con Rika Annula. Rika, questo è il tuo primo derby in campionato, come ti senti? Questo è il tuo primo derby in la Liga, come sono i sentimenti? Sicuramente il derby è una partita molto sentita, tutte le sensazioni sono positive, sia per lei che per la squadra. Hai segnato il tuo primo gol con la maglia del Verona, quanto è stato importante questo gol per te? It was of course important to myself also, but the more important for the team, like because, yeah, it was important. Sicuramente molto importante, ma la cosa ancora più importante è quanto questo è valso per la squadra. You are coming from good performances, I am sure you are preparing the right way also this game against Chievo. How have you seen the team during the week? State preparando bene la partita, immagino, contro il Chievo per il derby. Come hai visto la squadra in settimana? Stiamo facendo molto lavoro con la squadra, stiamo andando nella giusta direzione.